Un saluto ai nostri telespettatori e benvenuti a questa ultima puntata del 2021 dedicata alla rassegna stampa di Le Fonti Legal. Come detto appunto è l'ultima puntata di quest'anno, è anche stato l'ultimo numero di Le Fonti Legal di questo 2021, ricco di novità e contenuti e non poteva che essere un numero altrettanto ricco di contenuti. Andiamo a vedere nel dettaglio, entriamo subito nel vivo a partire dalla copertina che come potete vedere abbiamo dedicato alle best practice dell'anno. Abbiamo raccontato i migliori progetti e stilato anche il calendario 2021 delle più importanti operazioni seguite dagli studi legali d'affari. Ecco, per quanto riguarda, andiamo a vedere il cartello grafico successivo, per quanto riguarda le best practice abbiamo raccontato i progetti dei seguenti studi che sono OZIM, Panetta Studio Legale, gli studi Paoletti, Repucci e Sabatini. Perché le abbiamo raccontati? Perché avevano insomma qualcosa di importante da segnalare per questi ultimi 12 mesi, soprattutto di progetti innovativi. Abbiamo parlato OZIM, in particolare una società tra avvocati, e si pone l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel mercato degli NPL, proponendo un modello innovativo rispetto a quello che contraddistingue il rapporto tra l'avvocato incaricato del recupero giudiziale e il servicer. Panetta, invece, è uno studio specializzato in ambito privacy e cyber security. Sono tematiche chiaramente all'ordine del giorno, soprattutto appunto dallo scoppio della pandemia del marzo 2020. Lo studio, tra gli altri, ha seguito TikTok in una importante discussione avviata con il garante privacy. Interessante poi il progetto avviato negli Emirati Arabi dallo studio legale Paoletti. Si tratta del Paoletti Law Accelerator, un innovativo programma di pratica forense multidisciplinare. Ancora lo studio Repucci è impegnato come consulente legale in due importanti operazioni di acquisizione di società nel settore energetico e assicurativo e si sta concentrando in particolare sulla difesa nei processi in materia di evasione fiscale. Anche qui, insomma, un settore molto, molto sollecitato nell'ultimo periodo. Lo studio legale Sabatini, infine, nel corso del 2021, ha seguito diverse operazioni straordinarie a partire dal piano di risanamento di una società partecipata da enti pubblici della regione Marche. Andiamo oltre perché c'è un altro interessante approfondimento che abbiamo dedicato al mondo e al tema della diversity. Come ormai sapete, in particolare da marzo scorso, dall'8 marzo scorso, quando abbiamo mandato in onda una diretta non-stop H24 dedicata al tema e alle politiche di diversity messe in atto dai vari settori produttivi italiani, tra cui quello legale, le fonti e le fonti legal sono molto impegnati su questo tema. Per cui nell'ultimo numero dell'anno abbiamo dato conto dei più importanti salti di carriera in rosa, li abbiamo chiamati, nel senso le più importanti promozioni o lateral hire, nel senso di donne avvocato, che o sono state promosse a ruolo di partner in importanti studi legali, oppure hanno fatto un passaggio di carriera in un altro studio legale dove è stato loro affidato un ruolo di primo piano. Ci sembrava giusto, insomma, come culmine di questo percorso e di questo importante anno, dare conto appunto delle donne avvocato che sono in prima linea. Ce ne sono sempre di più, ma come sapete, nel mondo legale, degli studi legali, c'è ancora molto da fare. Andiamo oltre, perché abbiamo realizzato anche una serie di speciali tematici come ogni mese e in particolare ne abbiamo dedicato uno alle start-up innovative. Lo abbiamo realizzato grazie a un'intervista doppia realizzata a Francesco Delbene, che è senior partner di Avocom Law Firm, e a Claire Lusardi, CMO e Innovation Consultant di Sinesis Group, che fa parte del mondo delle start-up innovative. Entrambi hanno sottolineato le potenzialità delle start-up innovative in Italia e all'estero e anche i limiti alla loro crescita e il ruolo del consulente legale. Infine, andiamo ancora avanti, abbiamo dedicato uno speciale al tema insurance, quindi al settore assicurativo, in cui abbiamo messo a confronto gli operatori del settore sulle prossime sfide per il comparso e sugli effetti della pandemia. In particolare abbiamo intervistato, la vedete inquadrata in copertina, Maria Bianca Farina, presidente di ANIA, che è l'Associazione Nazionale fra le imprese assicurative, e assicuratrice, scusate, Italo Partenza, fondatore di ITC Law, e Michele Roma, titolare dello studio legale Roma. Abbiamo poi realizzato altri speciali e altri interessanti approfondimenti all'interno di questo numero che potete trovare in forma digitale o richiedere in forma cartacea. Bene, non mi resta di che ringraziare tutti i nostri telespettatori che sono stati con noi nel corso di quest'anno, augurare a tutti un buon fine anno, ma soprattutto un ottimo inizio 2022 e noi ci vedremo con la prossima puntata di Le Fonti Legal, che sarà dedicata appunto alla rassegna Sampa e che sarà la prima del 2022. Di nuovo buone feste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.